Io credo che se l'Italia è ancora tanto forte, non è tanto per noi vescovi, ma per i parroci e per i preti. Con queste parole pronunciate ancora una volta a braccio, il Papa ha concluso il suo discorso al clero romano. È vero, non è un po' d'incenso per confortarvi, ha puntualizzato il Papa, i preti dell'Italia sono bravi. Alla fine saremo giudicati su come avremmo saputo avvicinarci ad ogni carne, farci prossimo alla carne del fratello, ha aggiunto Papa Francesco nel suo discorso di inizio quaresima al clero romano, esortandola a non avere vergogna della carne del tuo fratello. Il sacerdote ed il levita che passarono prima del buon samaritano non seppero avvicinarsi a quella persona malmenata dai banditi, ha ricordato il Santo Padre. Il loro cuore era chiuso e avevano le loro giustificazioni, perché il cuore chiuso si giustifica sempre per quello che fa, ha aggiunto Abbraccio. Invece quel samaritano apre il suo cuore, si lascia commuovere nelle viscere e questo movimento interiore si traduce in azione pratica, in un intervento concreto ed efficace per aiutare quella persona. Alla fine dei tempi sarà ammesso a contemplare la carne glorificata di Cristo, solo chi non avrà avuto vergogna della carne del suo fratello ferito ed escluso, ha ammonito il Papa. I preti asettici, da laboratorio, non aiutano la Chiesa, ha detto ancora il Papa. Il prete è chiamato ad avere un cuore che si commuove. I preti si commuovono davanti alle pecore, come Gesù, quando vedeva la gente stanca e sfinita come pecore senza pastore. Gesù, per il Papa, alle viscere di Dio, è pieno di tenerezza verso la gente, specialmente verso le persone escluse, verso i peccatori, verso i malati, di cui nessuno si prende cura. A sua volta il prete, immagine del buon pastore, è uomo di misericordia e compassione, vicino alla sua gente e servitore di tutti. Chiunque si trovi ferito nella propria vita, ha concluso il Santo Padre, in qualsiasi modo può trovare in lui attenzione e ascolto.